Il pergole torte nasce dalla parte più vecchia dei vigneti di Montevertine, sono vigneti che sono stati piantati dal 1968 al 2000. Noi in questi vigneti facciamo la primissima selezione possibile di qualità del Sangiovese e poi diventerà pergole torte. Il progetto di CruRated mi sembra interessante perché la possibilità che diamo di comprare un vino ancora prima che sia imbottigliato direttamente dalla Barrick sicuramente è intrigante per il vero collezionista, a specie se appunto si tratta di vini molto ricercati. La cosa divertente dell'appriso su CruRated è che il cliente può comprare un tot di litri di questa Barrick e trasformarla in bottiglie come vuole lui. Noi abbiamo tre formati disponibili che sono la Bordolese classica da 0,75, la Magnum da 1,5 litri e la doppia Magnum da 3 litri. Una volta acquistato l'uno dei litri il cliente ci dirà come vuole imbottigliato il suo vino. Questa è una cosa molto particolare. La 2020 le pergole torte la considero un'annata bellissima. È stata soprattutto l'annata in cui siamo rimasti molto in casa e la natura di tutto questo ne ha giovato. Aria pulitissima, una bella stagione, una bella estate. La pioggia al momento giusto sia in primavera che a fine agosto. Sarà sicuramente un'annata da ricordare perché ha tutti i crismi dell'annata da lungo invecchiamento e da veri appassionati del territorio di Radda in Chianti. Un'annata molto espressiva del nostro territorio.